Scia di furti messi a segno tra Spojano e Gricena nel comune di Civitella della Chiana, nelle mire dei malviventi sia aziende che abitazioni. Nella serata di giovedì, poco dopo le 20, alcuni banditi si sono introdotti all'interno di un'abitazione a Spojano. I malviventi, dopo aver forzato una finestra sul retro dell'abitazione, si sono introdotti all'interno dell'appartamento e si sono diretti verso la cassaforte. L'hanno proprio molata, con la mola, che addirittura mi hanno bruciato anche il piumone, perché scendendo il caldo della mola mi hanno bruciato anche quello, poi tutto lo sporco. Cosa hanno portato via? Solo l'oro. Qual è il valore più o meno del bottino? Anche 6-7 mila euro. Come si vive adesso? Male. Si vive veramente male. Un altro furto, sempre in Baldichiana, nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotta, i danni di un'azienda edile della zona di Gricena. I ladri hanno messo a segno il colpo in una manciata di secondi. In questo caso sono scappati via con la cassa vuota. Sono entrati dal bosco e praticamente hanno forzato questa porta qui, diciamo, è scattato l'allarme e sono andati direttamente al registratore di cassa e sono subito corsi verso l'uscita perché ovviamente suonava l'allarme. Poi stamattina ci siamo accorti anche che avevano provato ad entrare anche dalle porte scorrevoli della sala mostra, diciamo, che abbiamo trovato un macegno lì davanti. Quanti minuti hanno messo a segno il colpo? Praticamente noi abbiamo letto le camere e abbiamo visto in 25 secondi sono entrati, hanno preso la cassetta e sono usciti. Non è il primo colpo ai danni di questa azienda? No, è il quarto colpo nell'arco di un anno. Non si vive tranquilli? No, per niente, per niente. E sempre nella stessa notte un tentato furto in abitazione in zona Gricena, poche centinaia di metri dall'azienda edile, a mettere in fuga i ladri il ritorno della padrona di casa che ha visto uscire dal proprio fondo uno dei due malviventi. Dentro qui sotto i miei fondi erano in due, la mia mamma ha sentito che uno ha detto via via arriva una macchina, quando sono arrivata io ho visto il secondo che stava correndo via. Ed intanto i residenti della zona si sono organizzati con il cosiddetto controllo del vicinato creando un gruppo su WhatsApp all'arma e Gricena nel quale vengono segnalate le situazioni sospette. Si cerca di darsi una mano fra vicini di casa, diciamo, è l'unico sistema perché le istituzioni fanno quello che possono ma è troppo poco, diciamo.